Seconda settimana inizia ora, yeah! Ok, quindi nessuno mi ha detto che c'era briefing oggi alle 7 o quello che si voglia quindi adesso vado a vedere se posso attendere questo meeting, vediamo! E la frutta è impacchettata. Povero mio fratellino che si sveglia ogni mattina alle 5 e è cotto. Adesso è mezzogiorno. Prima di pranzo è davvero cotto. Adesso è lunedì, tranquillo. Adesso si lavora un po'. Poi preparazione per la tesi. Inizio di lavorare, facciamo la ricerca di un po' di cibo. Ho già ricevuto un paio di messaggi positivi su questo mio, diciamo, diario di viaggio. E se c'è qualcosa che suscita interesse, basta commentare, scrivermi un messaggio. E vedrò di fare anche un video su quello, spiegando qualcosa di più sull'Indonesia magari o su qualsiasi altra cosa. Salute! Martedì mattina, anche oggi si parte. Che sole! Che sole! Ora, hai capito, questo è un po' di qui più, inizia e vittoria. Che sole! Che sole! Mi controla! Di cui è l'infanzo! Ma ora, l'anerano da l'anerano da qui è il piatto. Ma ora, l'anerano da questa prima viene, ma ora è l'anerano da qui è l'anerano! ho trovato una cosa interessante questo sta dormendo Sì Sì 你好 現在我們在寺廟 寺廟 寺廟 這個是我的朋友 大家好 我是Sigit Sigit 對啊 我們現在在三包宮 那個地方是叫 不知道 這個地方叫什麼 我們不知道 八十公 八十公 對 對啦 我們現在去哪一趟 看看有什麼 好嗎 好 好的 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 好 走啦 好 走啦 好 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 一 二 三 三 好 好 好 好 什麼 好 Non c'è tanta gente. No, 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 non c'è un video. The grass. The flat. Si sembrava a me quando ero un figlio. Ma ero più giovane. Tu vuoi me vedere giovane? Food, food, food. Meat. I think it's the answer. Oh my god, too much rice here. Ce ne andiamo. Uscita in notturna per comprare un po' di latte come snack prima di dormire. Ne ho fame. Oh my god. Ehhh. 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 Grazie a tutti.